Negli ultimi anni indubbiamente si è modificato molto il rapporto, non solo con il gallerista e con il curatore, ma anche qui il termine curatore è un termine che è molto equivoco. Molti curatori pensano di essere critici e molti critici vogliono fare i curatori. Il curatore è un manager dell'arte il quale organizza, fa, propone tutto. Poi c'è un'altra questione, molti dei galleristi oggi sono galleristi perché o hanno dei mezzi o sono dei buoni venditori e magari sono completamente ignoranti, identificano un artista, lo propongono perché hanno capito che quell'artista si può vendere. Solamente vent'anni fa, venticinque anni fa, io ho conosciuto galleristi che non solo erano dei buoni venditori, ma erano anche uomini di cultura. Potrei fare mille esempi, mi riferisco per esempio a un gallerista come Ghiringhelli, come la Galleria Apollinaire, la Galleria Martano Torino, la stessa bussola Cardazzo e mille altri, i quali non erano solamente dei buoni venditori e dei galleristi, erano anche degli uomini colti che proponevano certi autori perché vedevano in questi autori dei personaggi non solamente perché si potevano vendere, ma perché erano considerati dal gallerista personaggi con particolari qualità. Il rapporto oggi è molto cambiato, oggi prevale soprattutto attraverso i media, prevale soprattutto il curatore e poi l'importanza dei media che impongono certi autori i quali sono, dal mio punto di vista naturalmente, perché artisti qualche volta mediocri può capitare anche che indovinano il mercato, non sempre è stato negativo. Il mercato ha scoperto anche dei grossi personaggi che non sarebbero tali senza il mercato. però l'equivoco grosso è proprio il termine curatore e critico d'arte. Lo storico dell'arte è una cosa, il critico d'arte, il curatore è un'altra. Ci sono dei curatori che hanno particolari competenze, che riescono ad essere anche dei critici d'arte, degli analisti del problema.